Buon viaggio, ben trovati dalla redazione di Flores Multimedia, Mauro Ciutini in studio. Attenzione alle avverse condizioni meteo previste da stasera e per le prossime ore venti forti accompagnati anche da rovesci sulla nostra regione. Veniamo alla FIPI-Li-Code per la viabilità esterna che non riceve all'Astra Assigna in uscita provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze c'è uno scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo di Colle Valdezza Nord e quello sud in direzione di Siena. Un controllo di velocità in A11 tra Pistoia e Monte Catini in direzione Pisa. E al momento c'è traffico intenso sui viali a Firenze, via Guido Monaco, viale Redi, viale Milton, viale Belfiore, viale Fratelli Rosselli, viale Strozzi. In chiusura per la tramvia Firenze è in corso l'installazione della porta terrematica a protezione della corsia riservata. Siamo in piazza stazione. È tutto muoversi in Toscana in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Siamo in piazza stazione.